Benvenuto a Massimo Faraci, personal trainer, io ringrazio anche la signora Chiara perché lo vede, siamo pronti, abbiamo tutti gli attrezzi, dobbiamo fare un po' di ginnastica in questi ultimi giorni, ci siamo impigriti, non abbiamo fatto niente, pubblico state pronto perché questa volta ci sarà la bella sorpresa anche per voi, perché noi oggi vogliamo, come dire, ritrovare la forma alle nostre braccia, perché soprattutto a una certa età queste braccia perdono un po' di tonicità. Allora, innanzitutto capiamo che tipo di esercizi andremo a fare. Ok, intanto buongiorno a tutti, andiamo a vedere tre semplici esercizi, pegamenti sulle braccia, i bicipiti con dei manubietti e delle spinte verticali. Ok, quindi esercizi di base che tutti a casa possono anche fare. Tutti, eh, mi raccomando, anche voi pubblico, magari un po' difficile quelli sdraiati, però quelli in piedi li possiamo coinvolgerli. Per quanto riguarda il primo esercizio, i pegamenti, basta solo un semplice tappetino. Ok, allora andiamo a vedere il primo esercizio. Allora, l'importante è scendere il più possibile a terra, ok? L'obiettivo ovviamente è quello di cercare di poggiare il vostro petto e il nostro petto a terra, mantenendo una postura corretta, quindi schiena dritta, addome indentro e glutei contratti, ok? Cosa dobbiamo fare attenzione durante questo esercizio? Di avere sempre la schiena dritta, questa è la cosa importante, per cui per averla dritta, addome indentro e glutei contratti. Quante volte lo possiamo fare? È chiara? È che ti sei fermata? Eh no, è qui, no, è chiara, capisco che non è un esercizio semplice. Sì, non è semplice, ok. Allora, l'obiettivo, come ho detto, è fare più ripetizioni possibili, mettiamola così, ok? Per quante ripetizioni fare, possiamo dire che dobbiamo cambiare un approccio. L'approccio è, non c'è un numero ben preciso di ripetizioni da fare, dobbiamo arrivare sempre a bruciore muscolare. Quando sentiamo un po' di dolore? Quando iniziamo di dolore, bruciore muscolare, allora lì siamo nella fase che ci stiamo allenando e quindi lì dobbiamo andare ad approfondire il movimento, quindi fare altre due o tre ripetizioni. Quando inizia il bruciore ci sono altre due o tre ripetizioni da fare. Allora, con questo esercizio noi alleniamo non solo le braccia, vero? Principalmente, per come l'abbiamo fatta adesso, principalmente sono le braccia, i tricipiti abbiamo fatto. Allora... Con le braccia più larghe invece facciamo i pettorali. Allora, io vedo qua dei manubri, dei piccoli pesetti. Allora, da quanto sono? Da due chili. Da due chili. Allora, facciamo gli esercizi. Possiamo simularli sempre a casa, immaginando di avere delle bottiglie di acqua da due litri. Ok. Ma anche senza possiamo fare. Anche senza. Anche senza, voglio dire. No, no. Allora... No, perché io volevo... Allora, iniziavo a far vedere l'esercizio, perché anche il pubblico io vorrei far vedere. Ok. Allora, questo secondo esercizio, principalmente andiamo a lavorare sul bicipite, quindi sulla parte anteriore del braccio. Possiamo fare due varianti. Bravi. Controlla anche loro, eh, Massimo. Le varianti sono salire ormai con la rotazione del braccio, oppure invece semplicemente a martello. Ok? Andiamo a sollecitare delle fibre differenti. Anche in questo caso, il compartimento anteriore del braccio lavora. Anche in questo caso, quante volte dobbiamo fare questo? Io consiglio sempre a bruciore muscolare. Ovviamente parliamo all'incirca, per essere una cosa allenante, tra le 12 e le 15 ripetizioni è l'ideale. Quindi se ho un peso che è talmente leggero, cioè che io vado a fare anche 20-25 ripetizioni, forse è caso di aumentare il carico. Ah, per cui insomma magari da un chilo, due chili, tre chili, quattro chili. Andiamo all'intervallo tra le 12 e le 15 ripetizioni. Ma è chiara? Tutto bene? Sì, sì. Tutto un po', no, perché io mi preoccupo. Passiamo all'ultimo esercizio. Allora, passiamo all'ultimo esercizio. Allora, l'ultimo esercizio parliamo invece delle spalle. Ok. Per cui da questa posizione di candelabro vado a spingere, vado a portarle sopra la testa. Perfetto. Qui gli accorgimenti sono due e sono di arrivare col braccio disteso sopra la testa e che quando scendo il gomito sta perpendicolare al manubrio. Solitamente si trova le persone che portano il braccio dietro. Invece hanno il braccio sempre perpendicolare e spingo su. L'altra accortezza fondamentale, ovviamente, è sempre addome in dentro e glutei contratti. Perché quando si fanno questi esercizi si può soffrire di mal di schiena. Eh, sei le stanchi, eh. Io li vedo. Già sono stanchi. Io li vedo pronti. Allora, è importante anche fare, subito dopo questi esercizi, anche magari un po' di stretching. Sì. Perché il muscolo, voglio dire, lavora. Dopo che è lavorato, è bene sì, un po' di stretching. Facciamo questo qua. Ecco. Mano il braccio sopra. Ok. Per quello che abbiamo lavorato oggi. Quindi il tricibile, questo è un classico stretching per il muscolo tricibile. Esercizio che possiamo fare. Pubblico, vi ho liberato. Grazie a Massimo Faraci. Grazie. Grazie alla signora Chiara per essere stata con noi.